Andrea Raffa Revisoree Questa, che vedete, è la discarica di Ghazipur a Delhi, in India. È una montagna di rifiuti, è alta 65 metri, che in realtà corrispondono ad un edificio di 20 piani. Questi rifiuti creano un cocktail di gas tossici che contaminano aria, acqua e terra. Qui invece siamo ad Accra, in Ghana, dove ogni anno finiscono in discarica migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici, come i nostri cellulari e i nostri computer. Pensate che un uovo prodotto da una gallina ruspante nei pressi di questa discarica supera di 200 volte i limiti di sicurezza alimentare stabiliti dall'autorità europea per le sostanze tossiche. E queste sostanze tossiche causano cancro e danneggiano il sistema immunitario. Ora, sembrerebbe che questi siano casi estremi, lontani dalle realtà di molti di noi, giusto? Beh, forse sì, in apparenza. In realtà, le nostre scelte, i nostri acquisti, i nostri rifiuti possono avere conseguenze sull'ambiente e la salute anche a distanza di chilometri. E una crisi dei rifiuti può colpire ovunque. Basti pensare agli operatori ecologici di Parigi che qualche mese fa hanno smesso di raccogliere rifiuti per 15 giorni. Risultato? 8.000 tonnellate di rifiuti accumulati per le strade, trasformando l'invisibile, ovvero ciò che gettiamo in un contenitore per poi dimenticarci nell'attimo dopo, in una crisi sanitaria ed ambientale ben visibile. Una crisi che Napoli ha vissuto intorno al 2008, quando io lavoravo sulla mia tesi di dottorato appunto sulla gestione dei rifiuti, e passavo a fianco di cumuli di rifiuti bruciati per strada. Questa crisi in realtà andava avanti dal 94 e ha tristemente contribuito ad elevati livelli di tumore in campagna, soprattutto nella cosiddetta terra dei fuochi, senza contare i danni ecologici. Ma riflettiamo un attimo. I rifiuti, prima di essere tali, erano cibo, oggetti, materiale da costruzione, insomma risorse. Risorse che in generale si utilizzano come se fossero infinite, ma in realtà non è così. Oggi abbiamo bisogno di più di un pianeta, terra e mezzo per soddisfare i nostri consumi e gestire i nostri rifiuti. In pratica non diamo tempo alla natura di rigenerarsi. E se continuiamo così, entro il 2060 avremo bisogno dell'equivalente di due, tre o addirittura quattro pianeti terra. Quindi cosa si può fare? Beh, la soluzione sta nel passare da un'economia dell'usa e getta, economia lineare, ad un'economia circolare, dove le risorse vengono valorizzate e riutilizzate in un circolo virtuoso. E come si fa? Beh, primo, ridurre la produzione dei rifiuti fino ad eliminarli del tutto. Secondo, utilizzare ogni cosa al massimo della sua vita utile, evitando gli sprechi. E terzo, passare dall'estrazione dei materiali alla rigenerazione della natura. Attenzione però, qui non si parla solo di pensarci due volte prima di acquistare qualcosa o di separare i rifiuti in diversi contenitori. Questo è il minimo. Qui si parla di cambiare l'organizzazione del sistema economico con le sue regole e i suoi giocatori. Un'ammissione non semplice, ma neanche impossibile. Per esempio, in un'economia circolare si riutilizzano oggetti, mobili, abiti, si riparano gli elettrodomestici, i cellulari, i computer e si disegnano i prodotti in modo tale che durino il più possibile. Si riducono gli sprechi alimentari e si redistribuisce il cibo invenduto che può essere ancora consumato. Si riqualificano gli edifici prima di costruirne di nuovi e si migliora la qualità dei terreni tramite pratiche agricole sostenibili, tra cui l'agroforestazione. Ed esistono alcuni esempi pratici di economia circolare. Ad esempio, in Francia una legge sull'economia circolare ha stabilito la riduzione del 50% dello spreco alimentare tra il 2015 e il 2025. Per legge, i supermercati di una certa superficie hanno l'obbligo di donare il cibo invenduto alle associazioni e i ristoranti devono offrire la doggy bag per portare a casa il cibo non consumato. Questo serve a combattere uno spreco di 10 milioni di tonnellate di cibo all'anno, che corrisponde ad un costo di 16 miliardi di euro e a 15 milioni di tonnellate di anidride carbonica, il 3% delle emissioni di gas ad effetto serra della Francia. Amsterdam sta puntando a diventare una città totalmente circolare entro il 2050. lì hanno creato 150 piattaforme per la condivisione di oggetti, servizi, per esempio per chi ha bisogno di utilizzare l'auto o la bici solamente per qualche ora. E sono in corso 116 progetti per sperimentare principi di economia circolare, dalla riutilizzazione delle acque reflu e piovane alla produzione di energia rinnovabile prodotta localmente, alla riutilizzazione di materiali da costruzioni e alla promozione del recupero e alla riparazione degli oggetti. E in Italia? Beh, anche in Italia ci sono dei progressi. Infatti gli ultimi dati rivelano che la percentuale del riciclo dei rifiuti è tra le più alte di Europa, sfiorando il 70%. C'è ancora spazio però per investire in eco-innovazione in modo tale che i prodotti durino più a lungo e nel campo della riparazione dei beni. Quindi molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare e ognuno ha un ruolo importante in questa transizione dall'economia lineare all'economia circolare. Ad esempio a livello politico i sindaci, gli amministratori locali possono sviluppare strategie di lungo periodo di economia circolare, coinvolgere i cittadini per trovare soluzioni per scambiare, riparare, riutilizzare oggetti, migliorare i servizi, ripensare le città per le persone e non per le auto, rigenerare la natura in contesti urbani e costruire in modo efficiente e non solo costruire. A livello di impresa esistono tanti modelli di business circolari, dalle app per comprare abiti di seconda mano alle piattaforme di condivisione di mezzi di trasporto, all'utilizzazione dei servizi invece che di cose, verso quello che si chiama dematerializzazione. E a livello individuale bisognerebbe consumare di meno, meglio, ma soprattutto essere consapevoli del nostro impatto sull'ambiente. Kenneth Boulding, un economista degli anni Sessanta, distingueva l'economia del cowboy dall'economia dell'astronauta. In pratica, il cowboy è il simbolo delle pianure sterminate, del comportamento vorace dell'economia lineare. Nell'economia dell'astronauta, invece, la Terra è come una navicella spaziale in cui la disponibilità di qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa ha un limite. Ecco, noi siamo come dei cowboy in una navicella spaziale chiamata Terra. Pensate che questo possa funzionare? Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti.